Siamo con Paola Brumana, il Tavagnaco esce sconfitto dal campo di Como, cosa non è andata oggi? Diciamo che nel compresso non è andato niente, nel senso che alla fine è stata una sconfitta abbastanza meritata perché non abbiamo messo quello che abbiamo messo nelle ultime partite, cioè grinta, carattere e voglia di portare a casa il risultato alla fine perché con questo magari potremmo fare sicuramente meglio. Quindi per affrontare la Fiorentina servirà sicuramente un Tavagnaco diverso? Totalmente diverso perché sappiamo il valore della Fiorentina, sappiamo il valore nostro e lo dobbiamo solo dimostrare. Per te è ancora un'emozione tornare a giocare nella tua Como? Ma emozione no, sicuramente come ho già detto io a questa società comunque devo il mio inizio di carriera e quindi sono grata a loro ma ormai sono quasi mezza friulana.